E' stato l'ugandese Celestine Ndikumana sfidando temperature elevate e un fortissimo vento di Ciroc a vincere la volata Napola-Mocarta, gara podistica internazionale giuta alla sua 25esima edizione. L'atleta africano ha percorso 10 km dell'ondulato percorse fra le campagne dell'Agro e Ricino con il tempo di 29 primi e 35 secondi. E' rimasto quindi inviolato il record di 29-02 stabilito nel 2018 da Oscar Celimo sulle strade che collegano le frazioni di Napola e di Mocarta. Alle spalle del vincitore è staccato di soli 9 secondi l'attuale campione italiano dei 10.000 metri Pietro Riva, poi il burundese Terence Bizosa seguito dall'italiano Ahmed Uda. Sono stati i 17 top runners che hanno tagliato il traguardo della 25esima volata. La gara riservata agli amatori è stata vinta su 270 concorrenti da Michele Galfano, marsalese della SD Marsala Docco, seguito da Fabio Cammarata della Cecilia Rangin e dall'alcamese Vincenzo Giangrasso. Al termine delle gare nella piazza Buonaventura di Napola si è svolta la cerimonia di premiazione seguita da una serata musicale e da un pasta party. Ha sicuramente una gara molto dura ma che ha interpretato nel migliore dei modi per cercare di vincere così come ha fatto anche in altre manifestazioni. Penso che possiamo essere soddisfatti perché ci abbiamo lavorato tanto per questo anniversario e creduto di cercare di portare anche un po' di qualità in più riguardo agli atleti assoluti. E a mio parere ci siamo riusciti. Quindi a questo punto dico grazie a tutti, a tutti veramente, gli amici, appassionati, i collaboratori, i componenti della società, lo staff che si muove. Abbiamo raggiunto un bellissimo traguardo che secondo me ci deve per forza spronare a continuare ad andare avanti. Ci vuole un miracolo perché 25 e 25 fa 100 per la volata 50 ma per me sono di più. Va bene, diremo fino a che possiamo, cerchiamo di farla, sta volata, che penso diverte e fa divertire. Grazie a tutti.